Grazie Presidente. Molto velocemente per dire che abbiamo visto quest'ordine del giorno presentato dall'On. Fassina. Per quanto riguarda il secondo punto sullo stanziamento di risorse per l'acquisizione da parte del Comune del Parco del Santa Maria della Pietà, l'On. Fassina ha ritirato il punto e resta quindi valido soltanto il primo punto per la richiesta di pedonalizzazione e di successiva attivazione di una navetta dell'Atac. Ricordiamo che questa era una cosa già avvenuta in passato e che poi è stata cancellata a causa della pedonalizzazione del Parco di Santa Maria della Pietà. Però noi lo prendiamo come impegno e quindi voteremo favorevolmente perché è interesse di questa amministrazione lavorare congiuntamente sia con l'Asla che con la Regione per istituire nuovamente la pedonalizzazione del Parco e di conseguenza anche l'istituzione di una navetta. Grazie. 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 Grazie.